Un'altra tragedia sulle strade ha scosso questa mattina la provincia di Belluno. Sono le 10 e 15 quando Vincenzo Martinazzo, classe 1948 di Montebelluna, sta scendendo la statale 51 di Alemagna in direzione della pianura. In uscita dalla curva terminale del Ponte Cadore alle porte di Perarolo, l'auto su cui l'uomo viaggiava assieme a un minore per cause ancora da chiarire invade la corsia opposta e impatta frontalmente contro un camion. Il botto è fortissimo e per i 75enne non c'è nulla da fare. Nell'impatto vengono coinvolti anche altri due veicoli che probabilmente si trovavano dietro all'auto dell'uomo. Tutte illese le persone a bordo, così come l'autista del camion, mentre il minore che si trovava sull'auto della vittima sarà elitrasportato all'ospedale di Belluno in condizioni non gravi. L'amministrazione di Pieve di Cadore si è stretta al dolore dei familiari. Mi preme portare le mie condoglianze ai familiari della persona che purtroppo ha trovato la morte sul Ponte Cadore. Non è nella prima, ma speriamo che sia l'ultima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, mentre il personale del SUEM con elicottero e ambulanza ha prestato le cure sanitarie. Sull'asfalto non c'erano segni di frenata, indizio che farebbe propendere per una distrazione oppure per un malore, ma saranno le perizie della Polizia Stradale effettuate questa mattina a fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto. Durante le operazioni la circolazione è stata completamente interdetta sull'Alemagna e nonostante gli sforzi di Carabinieri e Anas di indirizzare il traffico sulla viabilità secondaria, il traffico è rimasto paralizzato per ore, con code che hanno raggiunto anche i 5 chilometri di estensione. Emblematica l'immagine del Ponte Cadore invaso dai tir, impossibilitati a percorrere le strade secondarie, in attesa fino al primo pomeriggio, quando il traffico ha potuto riprendere regolarmente. Vincenzo Martinazzo è l'ennesima vittima di quel tratto di strada maledetto, già teatro di incidenti mortali in passato. Per la sindaca di Pieve di Cadore è imperativo riflettere al più presto su una soluzione definitiva. Al netto delle dinamiche dell'incidente di oggi il Ponte Cadore si è più volte rivelato essere pericoloso, in più punti soprattutto in quello vicino alla curva, che pure ha visto altri incidenti anche mortali e sarebbe da considerare eventualmente che con Anas in futuro una suddivisione delle corsie in modo impattante e anche piuttosto rigido.